Se pur meno rispetto a giorni precedenti continua a salire il numero dei contagi in città. Nelle ultime 24 ore sono 13 nuovi casi di Covid, tutti i pazienti in isolamento domiciliare. I guariti sono 10. Purtroppo sale la linea dei decessi. ASP comunica la morte di due pazienti gelesi positivi al Covid. La curva complessiva del contagio è 983. Non risultano altri ricoveri. I due deceduti erano ricoverati dal Vittorio Emanuele. Nel resto della provincia i nuovi contagiati sono 8 pazienti di San Cataldo, 7 di Caltanissetta, 3 di Mazzarino, 2 di Niscemi, 2 di Riesi, 1 di Resuttano. I guariti sono 26 pazienti di Mazzarino, 3 di Caltanissetta, 2 di Mazzarino, 1 di Sara di Falco. Sono tanti i medici e le strutture convenzionate che da mesi non ricevono risposte dall'ASP. I pagamenti dovuti per le prestazioni svolte non sono stati sbloccati. I sindacati del settore non escludono iniziative anche plateali. ASP non paga delle mensilità dello scorso marzo e ancora oggi non ci sono indicazioni. Nonostante la normativa preveda versamenti da effettuare entro il termine di 30 giorni dal momento della notifica della fattura. I sindacati e le organizzazioni del settore hanno già inoltrato delle diffide ufficiali, ma il management ASP e il direttore generale Alessandro Caltagirone non hanno dato seguito. Uno scontro tra auto si è verificato lungo il tratto della 117 bis nei pressi della rotonda stradale a ridosso del bivio per Niscemi. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei sanitari per prestare soccorso ai feriti. Non ci sono ancora molte indicazioni su quante vetture siano state coinvolte. Le carenze di personale che ad oggi mai veramente sanate si abbattono anche sugli interventi d'urgenza. Da giorni infatti l'ambulanza medicalizzata dal servizio 118 effettua le attività senza un medico a bordo. Un'assenza che può rivelarsi controproducente soprattutto quando ci sono situazioni di emergenza. Anche in questi ultimi giorni non sono mancate le tensioni con gli operatori dell'ambulanza che hanno anche rischiato di essere aggrediti da utenti che avevano chiesto soccorso. Carenze che si fanno sentire ancora di più quando si tratta di pazienti a rischio covid. Anche nel recente passato è capitato più volte che l'ambulanza partisse senza medico a disposizione. L'amministrazione comunale promuove apericene gratuiti per i giovani che accetteranno di vaccinarsi. L'iniziativa è dell'assessore alla sanità Nadia Gnoffo sulla scia del vaccino parti promosso dal sindaco di Messina, Cateno De Luca. L'assessore forzista della giunta Arcobaleno ha già coinvolto i sanitari dell'ASP del manager Alessandro Caltagirone e i gestori di bar e ristoranti. Lo scopo è quello di convincere anche più scettici tra i giovani a sottoporsi alla somministrazione del vaccino contro il covid-19. Secondo il gruppo locale di Fratelli d'Italia i cantieri avviati in città sono abbandonati ancora una volta dopo quanto sostenuto di recente Rosario Emanuello ribadisce il concetto riferendosi ai lavori di Vianiscemi. Vianiscemi per l'esponente del partito di Giorgia Meloni sarebbe solo l'esempio più calzante di quanto non si riesce a fare nei cantieri avviati in città. La maggioranza è chiamata a rapporto stamattina infatti in aula consigliare arrivano atti finanziari che pesano compreso il bilancio di previsione 2021 sulla carta come già accade lo scorso anno. I pro greco avrebbero i numeri per arrivare al sì ma chiaramente i passi falsi del recente passato consigliano prudenza al sindaco e all'amministrazione greco sarà a confronto con la sua maggioranza pare che dopo un approfondimento con tecnici e funzionari si sia aperta la strada per individuare un fondo destinato a ridurre latari per le utenze private mentre l'abbattimento per quelle commerciali è già previsto nel provvedimento approvato dalla Sise Civica la scorsa settimana. Ora probabilmente Greco chiederà ai suoi di non sbattere contro il muro degli atti finanziari. Serviranno per realizzare il piano industriale che tra le altre cose prevede soprattutto la realizzazione di una nuova impiantistica per il ciclo dei rifiuti. Il CDA della SRR4 ha autorizzato l'acquisto di terranili mitrofi al sito di Timpazzo. Sarà la società impianti SRR controllata dalla SRR4 a procedere materialmente alla definizione del preliminare del contratto successivo di acquisto. Azienda che opera nel settore delle navi da crociere e militari offre opportunità di lavoro e carpentieri e saldatori. La società Naval Forg offre fisso mensile, formazione, assunzione, alloggio e possibilità di sistemazione anche con la famiglia. La sede di lavoro sarà nel comune di San Nazare, nota località industriale della loira francese. Gli interessati dovranno avere uno spiccato spirito di adattamento. Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell'azienda al numero 3311815113 o inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica navalforg-gmail.com Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.